Ben ritrovati, buongiorno a tutti, venerdì 5 marzo, venite ad abbeverarvi alle fonti, siamo alla fine della prima settimana di questo ciclo di conversazioni, abbiamo iniziato lunedì con Adriano Panatta perché ho un rapporto di consuetudine professionale, amicale, affettiva, datata e quindi Panatta nel sentire l'elenco degli ospiti che avevano già con mio sommo piacere e con grande cortesia da parte loro, ha accettato l'invito a chiacchierare con me dalle 10 alle 10 e mezza qui su LeFonti.tv, ha detto che ormai si vede che stai facendo uscire il fascista che è in te, questo perché dopo Panatta ho intervistato martedì Enrico Vanzina che la sinistra cinematografica da salotto ha sempre guardato con un certo schifo, poi mercoledì Marco Tarchi, scienziato della politica, docente universitario, politologo, marchiato, etichettato in un paese dove bisogna sempre etichettare tutti, in base ai pregiudizi, di destra, quindi Marco Tarchi di destra, ieri Melania Rizzoli in quanto medico, ma in quanto anche assessore all'istruzione della regione Lombardia, regione governata dal centro-destra, l'ospite di oggi, lunedì festa della donna, Giorgia Meloni e allora Panatta è sbottato, vedi che in fondo gratta gratta stai facendo uscire il conservatore, il reazionario, il fascista che è in te. Il dramma di questo paese, aggravato dai social in questa fase storica, è che non si ha più il piacere di dialogare, al di là di presunti steccati ideologici, con chi magari non la pensa totalmente come te, o magari la pensa in parte come te, è comunque sempre meglio confrontarsi con uno spirito diverso, anziché richiudersi, come succede sui social, nelle cosiddette ecorum, dove tutti vanno a parlare con quelli che la pensano già come loro e se la cantano e se la suonano. Ora, ho fatto questa premessa, perché è tutto da verificare che io e Enrico Ruggeri la pensiamo diversamente, probabilmente no, o magari sì, o magari in parte, ma chi se ne frega, Enrico Ruggeri, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a tutti! Eccoci qua! Allora, Enrico Ruggeri che notoriamente, siccome la pensa con la sua testa, non so neanche come la pensa, ma la pensa con la sua testa e quindi è fuori dai circoli ufficiali, da quei salotti dove tutti se la cantano e se la suonano, maggior ragione parlando di Enrico Ruggeri, ecco, allora passa per essere un uomo o un cantante di destra, perché in questo paese, Ruggeri, c'è un certo tic, chi non la pensa con la sinistra ufficiale, qualunque essa sia, automaticamente un reazionario? Sì, beh, è sempre stato così, io arrivo da scuole, da licei milanesi degli anni 70, in quali solo se non andavi in manifestazione eri di destra, io non andavo in manifestazione perché andavo in cantina a suonare, per cui sono abituato, sono abituato a questo stato di cose che in questo momento sta diventando sempre più ridicolo perché oggi, come non mai, ci sono una serie di argomenti sul tavolo nei quali le menti libere dovrebbero essere ancora più stimolate a essere liberi, mentre invece anche oggi, anche sui temi attuali tipo Covid, siamo totalmente fossilizzati su posizioni incrollabili, ed è vero quello che tu dici, un altro dei grandi problemi è il fatto che ognuno si fossilizza sulla sua parte, quelli di destra leggono il giornale e non sanno cosa succede su Repubblica, quelli di sinistra leggono Repubblica e scherniscono quelli che leggono il giornale, nei siti, nei forum ci si trova a parlare delle stesse cose e ognuno dei noantri, come direbbero a Roma, e quindi insomma io mi diverto molto di più a parlare con persone che non la pensano come me, in realtà, perché mi sembra più stimolante, anche perché bisognerebbe pensarla in maniera autonoma caso per caso, mentre invece ci sono dei dogmi per i quali se una cosa è di destra va abborrita comunque o viceversa e questo ovviamente limita ancora di più l'intelligenza di questo paese. L'invito fatto oggi cade nella settimana del Festival di Sanremo, lo dico perché se no sembra che Enrico Ruggeri sia stato chiamato da me in funzione di un commento alla manifestazione, alla rassegna della canzone italiana, dove peraltro Ruggeri un segno l'ha pure lasciato, ma ci tenevo a precisare che Ruggeri l'avrei invitato a prescindere, non è collegato al Festival, ma già che ci sono Ruggeri, lei mi deve consentire un paio di battute, poi parliamo di ciccia, di politica, di Covid e anche della sua multiforme attività, perché noi siamo affezionati all'immagine di Enrico Ruggeri, musicista, cantante, cantautore, ma poi è stato ed è anche tante altre cose, ha fatto il conduttore televisivo, il conduttore radiofonico, scrive, noi ci siamo parlati di recente in occasione dell'uscita del suo ultimo romanzo, non a caso dedicato in qualche modo agli anni di biobbo che Ruggeri ha vissuto sulla sua pelle, ma le volevo chiedere del Festival, lei ne sa qualcosa, l'ha seguito, ha sentito qualche canzone? Allora, io sono tifoso di una squadra che da dieci anni non vince nulla, dal mitico 2010, sono interista. Anch'io! E quindi, dal caso che finalmente per una volta l'Inter sia in lotta per lo Scudetto, anzi in questo momento in fuga. Quindi, martedì ho cercato di gufare alla Juve, ho guardato la Juve che invece ha stravinto. Mercoledì ho gufato alle altre concorrenti, allo Scudetto, e quindi ho visto le partite. Giovedì giocava all'Inter e quindi in tutti e tre i casi il Festival non l'ho visto. Dopodiché aggiungo la frase con cui De Niro risponde al senatore Bailey che gli chiede cosa hai fatto tutti questi anni e lui dice sono andato a letto presto. Quindi, insomma, finite le partite, francamente non mi sono immerso nella Kermes. Poi qualcuno, gli amici che ho tra i cantanti, che sono pochi perché la maggior parte non riconosco perché sono di un'altra generazione, insomma, gli amici me li sono riguardati la mattina dopo sulle varie piattaforme. Lei quante edizioni? Non so molto. Certo, intuisco che è un festival anomalo. Da un lato, va detto, è il sogno di chiunque presenti il festival, presentare il festival e avere come massimo alleato il coprifuoco. Per cui tu presenti una trasmissione top della Rai in un periodo nel quale la gente non può uscire. È il massimo della vita. Chiusa con questa battuta, posso solo dire che evidentemente è un'edizione particolare. Non invidio i cantanti che sono lì blindati perché il bello di Sanremo è andare in giro, confrontarsi, incontrarsi, andare a cena, sei a cena in un ristorante alle due di notte, arrivano degli amici, arriva il giornalista, arriva l'addetto ai lavori, ti sposti. Insomma, dal punto di vista antropologico Sanremo è una bella esperienza che quelli di quest'anno non possono vivere. Quindi solidarietà. Mi toglie una curiosità. Tutto vero, tutto giusto. Sottoscrivo, sono stato a Sanremo per un paio di volte in due edizioni differenti, quindi è vero che tutto il circo barnum intorno alla manifestazione è parte della manifestazione e quindi sicuramente è un'edizione anomala. Vero è anche che la gente è chiusa in casa, quindi in teoria ci si poteva aspettare e la Rai se lo aspettava perché leggo questa mattina sui giornali che hanno venduto gli spazi pubblicitari con dei ritocchi di listino per gli inserzionisti immaginando ascolti molto più alti. Adesso ci sarà un problema di compensazioni. Però mi toglie una curiosità dal punto di vista tecnico. Poi io do del lei perché sono abituato davanti, ti dovrei dare del tu. O tu o lei. Questa mattina leggevo che, viva viva Orietta Berti, parentesi, io del festival ho visto incidentalmente solo l'esibizione di Loredana Bertè e chapeau a Loredana Bertè che alla sua… Perché è partita col mare d'inverno peraltro. Peraltro ci stavo arrivando col mare d'inverno, chapeau perché è una signora che ancora sta a tenere il palco davanti a un teatro anche vuoto e trasmetterti delle emozioni. Allora no, c'è un'annotazione tecnica e poi chiudiamo col festival Enrico. Leggevo Orietta Berti, bravissima, perché ha cantato con un microfono normale. Sì, non rinforzato. Si è rascoltata con i microfoni. Non è una questione di microfoni, è una questione di ascolti. Quelli, stavo per dire quelli veri, ma non sarebbe impietoso, insomma quelli che hanno battuto il palcoscenico per decenni hanno in odio queste cuffiette che invece sono figlie del mondo talent. Con le cuffiette tu senti teoricamente molto meglio, in realtà in maniera talmente precisa da confonderti se non sei abituato. Quelli della mia generazione sono nati con gli ascolti, le casse. Quindi sicuramente quelli che cantano con le casse sono molto più intonati. Io ho sentito, insomma, molti non erano a loro agio con l'intonazione e aggiungo, si sentiva malissimo, cioè non si capivano le parole delle canzoni che per me sono una cosa importante. Questo da quello che ho sentito, che ho visto il giorno dopo, vedendo la replica, diciamo, come si diceva a volte. Quanti festival hai vinto Enrico? Ricordiamolo perché fosse due. Ne ho 22, uno nell'87 con Morandi e Tozzi, si può dare di più, e nel 93 con Mistero. E poi ho preso un po' di premi qua e là, ci ho arredato un po' di caso. Domanda, scusami, ma uno come te, Enrico Ruggeri, riportato all'epoca, come si è ritrovato con due esponenti della canzone melodica italiana che più tradizionali non si può, no? Voglio dire, Gianni Morandi e Tozzi. Ma guarda, è il motivo per il quale io accettai, perché io l'anno prima avevo vinto il primo della critica con una canzone molto d'autore, insomma, per capirsi. Si chiamava Rieneva Plue, era una canzone dove non c'era neanche la batteria, era voce, piano, fisarmonica. Tutti dicevano di me che io ero un grande autore, ma che vocalmente, insomma, non ero un granchetto. Soprattutto la stampa romana. Siccome io sono uno di quelli che trae... Soprattutto i critici di un giornale romano. Come no, come no, ma glielo ho anche detto. A Sante Castaldo, per non far nulla. Repubblica. E allora, insomma, io sono uno che quando viene criticato trae rabbia, la critica è un motore per me. E quindi andai a Sanremo a cantare con due grandi cantanti, Morandi e Tozzi, quindi due considerati grandi cantanti, proprio per far vedere che non ero da meno. Pretesi di cantare la nota più difficile della canzone, che era un sì naturale, non lo sai neanche tu, quello era un sì, e quindi insomma feci tutto questo soprattutto per smentire quelli che dicevano che non ero un grande cantante. Sì, anche perché, diciamo, negli anni precedenti, qui vediamo che c'erano ancora gli occhiali e i capelli erano scuri. Arrivavi da un periodo biondo platino che ti aveva caratterizzato all'inizio, diciamo così. Sì, beh, io nasco come cantante di un gruppo punk. Eh, infatti. Era a fine degli anni 70. Sì, sì. Sì, scusa, un ultimo flash. Vogliamo ricordare come siete diventati famosi a Milano? Cosa vi siete inventati? La bufola del concerto che non era un concerto e che finì ammazzate? Sì, beh, c'era un mio amico che aveva un terrazzino che dava su una discoteca. Lo posso dire perché adesso al posto della discoteca c'è una banca, era la piccola Broadway, via Redi, Angolo, Corso, Buenos Aires. E allora, all'insaputa del gestore della discoteca, andammo in giro una notte a mettere i manifesti con scritto concerto punk e con i decibel. Questo perché nasceva il punk e la sinistra estraparlamentare diceva che i punk erano fascisti perché si vestiva di nero, non avevano la barba, non suonavano seduti con la gambe larghe, con la camicia a scacchi, insomma. erano diversi da tutto. In realtà non era vero. Due anni dopo il class fecero un tour che si chiamava Rock Against Racism traghettando la suburbia giamaicana con la suburbia proletaria inglese. Quindi non era vero. Però sai com'è la sinistra, no? Quando ci mettono in testa una cosa vanno dritti. Allora io misi questi manifesti, concerto punk e con i decibel, andammo a metterli ovviamente vicino ai centri sociali, vicino alle sedi del Lampi, vicino alle scuole calde e quindi per cercare di sollecitare una reazione che ci fu. Quindi arrivarono un po' di punk, due o trecento punk da tutta la Lombardia, arrivava il corteo dell'associazione di vigilanza antifascista del quartiere Buenos Aires, Venezia, e si menarono, ci furono dei feriti, lacrimogeni, soprattutto il rito che accadeva in quegli anni. Il giorno dopo tutti i giornali, senza sapere chi fossero i decibel, in Pasia Nazionale scrivevano scontri al concerto dei decibel. Quindi pochi giorni dopo tutte le case discografiche fecero la fila davanti a noi, tutti gli stessi che ci avevano respinto i nastrini da anni e niente, due mesi dopo eravamo nello studio I Carimate, il miglior studio d'Europa, a registrare il primo album. Per chiarezza, la beffa perché il concerto non ci fu. Il gestore della discoteca, poverino, era in mezzo alla strada, che diceva non è vero, guardarvi e venite a vedere, non ci sono gli strumenti, non c'è nessun concerto, ma nella confusione per fortuna nessuno li ha creduti. Allora, parlavamo del Covid, e del fatto che sul Covid virus, patologia gravissima che nessuno nega nella sua portata devastante a livello sanitario, a livello purtroppo anche sociale ed economico per gli effetti collaterali che ha avuto, però sul Covid non si può discutere, nel senso che se qualcuno, pur non negazionista, cioè come lo sono io, io sono convinto che il Covid sia pericolosissimo, anagraficamente sono in una categoria a rischio, perché ho... Sicurati io. Ecco, Enrico è di qualche anno meno giovane di me, diciamo così. Ovviamente, questo non significa che uno qualche domanda se la possa fare, se le misure che vengono prese per il contenimento sono tutte logiche, razionali, se chiudere, riaprire, richiudere, chiudere a fascia, chiudere alcune cose, cioè chiudere i ristoranti, chiudere i teatri, però poi c'è il derby Inter-Milan ne abbiamo visto i tifosi dell'Inter e del Milan che non sono potuti entrare allo stadio, perché è vietato, ma si sono assembrati fuori, che allora mi dico, allora aprite lo stadio, mettetele un tifoso ogni dieci poltroncine, ma meglio così che fuori, assembrati, no? quasi venendo allo scontro fisico. Enrico, so che tu su questo sei, come dire, allineato con posizioni eretiche. Sono eretico, sì, ma in realtà parto da un presupposto che, come ho già detto tante volte, non si può impedirsi di vivere per la paura di morire. Il mondo è sempre andato avanti, ha scavallato, Milano ha scavallato la peste, quella raccontata da Manzoni, moriva uno su tre a Milano quando ci fu la peste. Abbiamo superato guerre, guerre civili, dittature, crisi economiche, sempre andando avanti. La società è sempre andata avanti, la frase, pensa alla salute, sarebbe stato un ostacolo tremendo cominciare da Colombo che parte con le caravelle per una destinazione ignota, per andare avanti a tutti quelli che hanno rischiato la vita per un ideale, partigiani compresi, tutte persone che non pensavano alla salute. Per cui, mi limito a dire questo, poi sono uno che si mette la mascherina, se ho il disinfettante in macchina, mi lavo le mani, mi rendo conto, insomma, che c'è un problema grave. mi fa sorridere questo fatto che anche qui l'Italia si spacchi in due e combinazione. La sinistra, la sinistra di Ingrao, di Amendola, di Berlinguer, di Nenni, cioè di persone che rischiarono in prima persona tante volte, diventa quella che è a favore delle chiusure. E' un paradosso, no? La sinistra, teoricamente, è lì per difendere le libertà dei deboli. Nasce così. Oggi il quadro è un po' più confuso, nelle banlieue parigine votano Le Pen, negli Champs-Élysées votano Macron, quindi è un po' più complicata la situazione. Però teoricamente, e ne parlo spesso con i miei amici di sinistra, alcuni capiscono, altri no, mi sembra strano che la sinistra non difenda i diritti dei deboli. Perché essere per delle chiusure indiscriminate è difendere i diritti di alcuni deboli, ma i veri deboli sono tutti quelli che hanno un progetto di vita in microimprenditoria, quelli che hanno un pub, quelli che venderebbero le castagne fuori da una pista da sci, cioè anche quelli sono i deboli. Tutto qua. Poi, aggiungi sono uno che andava già male quando ero all'Iceo Classico andavo già male in scienze, per cui figurati quanto poco ne posso capire, però insomma vedo che anche i virologi più celebrati non ce n'è uno d'accordo con un altro, quindi evidentemente anche loro che in questo momento hanno sostituito la magistratura nella parte che conta del paese, ma anche loro non sono d'accordo mai con nessuno con l'altro. Aggiungo due considerazioni, la prima che sono totalmente d'accordo con il professor Roberto Burioni che è un'autorità riconosciuta, riconosciuta da quasi tutti, poi una parte lo contesta, ma insomma che ha detto una cosa che sottoscrivo dalla prima all'ultima parola, ha fatto un tweet in cui ha detto se il lockdown lockdown intendendosi la chiusura del paese che qualcuno minaccia o annuncia prossima avventura perché questa terza ondata con le varianti avrebbe complicato ulteriormente la situazione, ecco, dice Burioni se il lockdown totale l'anno scorso aveva un senso ed era giustificato perché avevamo a che fare con un virus totalmente sconosciuto, un anno dopo un lockdown come lo abbiamo vissuto l'anno scorso non ha senso, cioè non si può chiedere alle persone di richiudersi in casa per un mese o per due mesi perché noi non siamo venuti ancora a capo della lotta al virus quando gli altri paesi che sono arrivati al virus dopo di noi lo hanno affrontato peggio di noi, noi eravamo un modello per tutti, la prima cosa che hanno fatto si sono preoccupati di avere i vaccini, questo dice Burioni, oggi la risposta non può essere richiudiamoci in casa ma vacciniamoci tutti, piccolo problema sui vaccini ci siamo mossi in ritardo e quindi abbiamo dormito sono dei giusti, gli americani hanno già vaccinato 80 milioni di persone, gli inglesi che sono fuori dalla UE adesso hanno una percentuale di 32 vaccinati su mille mentre noi ne abbiamo 7 su mille, pensate un po', non si poteva accelerare prima forse così adesso non ci sarebbe il rischio di sentirsi dire richiudiamoci tutti intanto oggi Mario Draghi Enrico non so se lo sai lo aveva detto e lo ha fatto ha bloccato una partita di vaccini che dovevano partire dall'Italia da AstraZeneca perché infialati messe nelle fiale ad Anagni dovevano partire per l'Australia e Draghi ha detto non se ne parla se non li date prima a noi in virtù del contratto che abbiamo siglato cioè dovete rispettare i contratti prima li date a noi perché abbiamo un contratto e poi se li volete esportare a chi ve li paga di più adesso ho letto che il leader australiano ci prende anche per i fondelli dice vabbè gli italiani poveracci sulla lotta al virus sono in ritardo quindi li capiamo non sono avanzati come noi australiani devo dire che non hanno tutti i torti sempre così tra l'altro se tu fossi a casa mia adesso vedresti dall'altra parte della casa due bambini con delle facce che mi spezzano il cuore davanti a un computer che stanno facendo lezione sono i miei due figli che stanno pagando come tutti i ragazzini di questo paese un prezzo altissimo un prezzo incalcolabile tutto quello che noi siamo dipende da tutto quello che abbiamo vissuto nell'adolescenza i rapporti umani il conoscersi le prime fregature la fatica nel confrontarsi con gli altri nel vivere nel ribadire ciò che noi siamo in confronto ai nostri amici o partner o competitor tutte cose che capisci nell'adolescenza e invece sono di là in pigiama davanti a un computer che stanno facendo lezione come milioni di bambini e anche questo è un danno che non viene messo in conto io non ho più parole sull'argomento speriamo nei vaccini anche se ho visto che poi ieri diceva il ministro per lo sviluppo economico l'ottimo per me Giancarlo Giorgetti leghista numero due o se volete rappresentante con Zaia dell'ala governista della Lega in contrapposizione a Matteo Salvini Giorgetti ha incontrato i vertici di Big Pharma italiana e dell'agenzia italiana per il farmaco e ne parlavo ieri con Melania Rizzoli hanno detto beh possiamo produrre anche noi il principio attivo dei vaccini contro il Covid solo che dobbiamo riconvertire una parte degli impianti e quindi se ne riparlerà fra sei mesi ma dico siamo a marzo non ci si poteva arrivare a ottobre a quest'ora saremmo stati avanti sei mesi invece purtroppo ad ottobre eravamo tutti impegnati a parlare dei banchi a rotelle e dei monopattini elettrici con il risultato che è sotto gli occhi di tutti senti alla tua epoca scusami alla tua epoca alla nostra epoca ormai l'hai detto l'ho detto alla nostra epoca tu che sei un influencer nel senso sei un influencer perché hai un tuo seguito di fan che ti seguono dal tempo dei decibel ieri quando ho annunciato che avremmo fatto questa breve chiacchierata insieme io sono stato raggiunto da moltissimi messaggi ho visto che i tuoi fan si predisponevano all'ascolto però gli influencer tu una volta hai ricordato ai tuoi tempi ai nostri tempi si chiamavano Ennio Flaiano Pierpaolo Pasolini senza mettere la giudura oggi gli influencer sono fracazzo da Velletri che impiatta il Cavolfiore a Masterchef e Cristiano Ronaldo credo no? Sì beh insomma si corre sempre il rischio di passare da vecchio trombone certo nel mio campo per esempio la musica ci sono canzoni cioè i Beatles hanno 55 anni le Zeppeli erano 50 anni quindi quando recentemente è stata fatta la provocazione sulla musica classica e sul rock io dico che ormai il rock è musica classica non è più appannaggio di una generazione il rock che nasce negli anni 60 come soggettivizzazione di una classe sociale cioè i giovani non sono più una sala d'aspetto ma diventano un soggetto politico umano ben preciso questo grazie al maggio francese grazie a Bob Dylan grazie al rock grazie agli IP di San Francisco grazie a un sacco di cose quando arriva il rock negli anni 60 i settantenni erano persone nate nel 1880 oggi un settantenne è nato nel 1950 quindi aveva 14 anni quando Kate Richard componeva il riff di Satisfaction quindi il rock diventa un'elite dell'anima e non più appannaggio solo di una generazione tutto questo per dire che insomma vengo da tempi nei quali ci si trattava veramente molto bene sì perché tra l'altro devo dire ma questo lo si impara con l'età nel senso siamo stati tutti incendiari poi con l'età uno tende a diventare pompiere più o meno io sono più incendiario io sono più incendiario di allora adesso perché avendo meno tempo mi arrabbio di più perché se succede qualcosa di negativo a 20 anni tu dici vabbè prima o poi rimedierò se ti succede qualcosa di negativo a 60 anni molto passati ti incazzi di più perché hai meno tempo per porre rimedio quindi sono più incendiario oggi lo dicevo soprattutto riferito all'ambito musicale tenendo conto delle cosiddette provocazioni di Sanremo dove arriva il cantante con i capelli pittati arriva quello con le piume arriva quello con le unghie smaltate arriva quello con i piedi nudi ragazzi vi diamo una notizia abbiamo già visto e fatto tutto lo potete solo rifare Ruggeri aveva il rabbiondo platino Renato Zero si metteva le piume Sandy Shaw una cantante inglese che non si ricorda nessuno cantava a piedi scalzi è già stato fatto tutto oggi è molto più difficile l'unica cosa che posso dire a vantaggio di questi ragazzi è che quando nasce il rock c'erano veramente dei prati deserti e tu ci mettevi sopra delle case oggi è stato occupato già tutto per cui è difficile trovare novità il consiglio è quello di cercare di trovarle più nella sostanza perché il pericolo è vero che anche David Bowie si metteva le piume poi però scriveva Life of Mars Ziggy Stardust e Eros o Lou Reed si metteva l'ombretto ma poi scriveva dei capolavori quindi in realtà è come se mi metto a fare un quadro astratto può sembrare il quadro di un grande pittore ma se mi fai fare un quadro non sono capace Picasso disegnava delle madonne meravigliose e poi però faceva anche delle cose più avanzate ma perché sapeva fare quello se fai solo lo scala se io mi metto e taglio una tela non sono Fontana sono uno che ha rotto una tela perché non so dipingere Fontana non il governatore della Lombardia non il governatore per carità Fontana quello delle tele Enrico chiudiamo con la domanda classica che si fa sempre alla fine di una chiacchierata cosa stai facendo cosa ti attingi scusa ti attingi sei prossimo a fare io attendo istruzioni perché sono stato in studio ho scritto canzoni le ho registrate sono pronto ad andare in tournée la fortuna di questi periodi è che avendo scritto un libro nel lockdown precedente un romanzo che sta andando anche molto bene parlo del romanzo ogni tanto mi collego con qualcuno e parlo del romanzo e questo mi fa molto piacere e per il resto sono sulla rampa di lancio aspettando istruzioni da chi ci governa per quanto riguarda i teatri per esempio c'è secondo me uno scandalo c'è una categoria di persone che è stata completamente dimenticata i cantanti che tanto ci fanno divertire questa è una frase che ha pesato tantissimo ha pesato su chi l'ha pronunciata ma ha pesato tantissimo sulla nostra categoria che non è una categoria di superstar le superstar sono alcune ma ci sono centinaia di migliaia di persone che in questo momento fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena perché sono tutti i nostri tecnici sono gli attrezzisti sono i costumisti i camionisti sono tutti quelli che lavorano attorno alla musica sono stati umiliati e dimenticati a fronte del fatto che sarebbe veramente molto semplice ripartire quantomeno con i teatri magari non con i concerti da 50.000 ma con i teatri sarebbe semplicissimo cominciare da domani sì nella giornata in cui l'Istat ha certificato che causa covid c'è un milione di italiani in più adesso sono 5 milioni che sono sotto la soglia di povertà assoluta povertà assoluta significa non sapere come non arrivare a fine mese come arrivare a fine giornata cioè non riescono a soddisfare i bisogni essenziali lo dico perché il ministro Di Maio si era affacciato da Palazzo Chigi dicendo abbiamo abolito la povertà non lo so io credo che qualche italiano purtroppo è diventato ancora più povero e qualche italiano invece è diventato più ricco a cominciare forse da qualche esponente dei 5 stelle che prima aveva il reddito pari a zero e poi nel corso degli anni degli ultimi invece per fortuna loro hanno visto il proprio reddito aumentare va bene non chiudiamo con note polemiche per non farci ulteriori nemici caro Enrico grazie salutiamo il direttore delle fonti tv Manuela Donghi che è in studio e sta aspettando che io finisca di sbrodolare eccola lì Manuela Buongiorno 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 in realtà stavo aspettando che tu mi chiamassi perché volevo salutare Enrico scusa mi ho detto proprio oggi non mi interpella vi avrei ascoltati ancora mezz'ora quindi non era per interrompervi volevo dire che stanno arrivando tanti messaggi quindi salutiamo anche tutti i nostri telespettatori e si intravede un po' di malinconia verso quella che è l'arte di una volta del passato della serie si stava meglio quando si stava peggio però insomma vedremo che cosa ci porterà anche il vostro mondo Enrico è stato davvero un piacere averti con noi è stato un piacere anche per me ok spero che tornerai presto Antonello quando volete come avrete come ha intuito Antonello non sono oberato da qui va bene io non ci credo però Antonello lascio a te la chiusa ovviamente del tuo programma ricordo una cosa che ha detto Enrico prima e cioè sempre riferimento a questa distinzione manichea destra-sinistra che poi uno dovrebbe riempirla che cos'è di destra che cos'è di sinistra Giorgio Gabber lasciamo per la sinistra però dovrebbe essere progressista o almeno una volta era progressista cioè andare incontro al domani con la volontà di prendere il meglio e di governare i cambiamenti speriamo che destra-sinistra o centro questo avvenga al più presto per consentire anche ai lavoratori della musica come ha ricordato Enrico Ruggeri poco fa ma anche a tutti gli altri perché poi c'è un problema di cassa integrazione di blocco di licenziamenti che forse deve esaltare che insomma rende la situazione incasinata non solo dal punto di vista pandemico sanitario ma anche pandemico sociale economico magari più avanti ospiteremo ospiteremo di nuovo Enrico Ruggeri e vedremo fra tre mesi che cosa è successo a bilancio grazie Enrico buona giornata grazie a Manuela Donghi il direttore ci rivediamo lunedì mattina festa della donna 8 marzo insieme udite udite al presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e adesso potete cominciare a bombardarci con i vostri messaggi arrivederci a tutti ciao grazie a tutti